Amici del Gavazzana Blues, noi ci vediamo il 7 settembre nella bellissima cornice del Belvedere San Martino per un concerto tutto dedicato alla musica di Fabrizio D'Andrè. È stato detto e suonato tanto riguardo a Fabrizio, noi cercheremo di dare alle sue canzoni una veste un pochino inedita. Gli arrangiamenti saranno quelli di Stefano Cabrera, ci sarò io, Flavia Barbacetto, alla voce, sarò accompagnata da un quintetto d'archi, il quintetto d'archi dell'orchestra classica di Alessandria. Quindi noi vi aspettiamo, vi racconteremo anche un po' la storia delle canzoni attraverso le parole di Faber stesso. Segnatevi questa data, 7 settembre ore 21 e 30, Belvedere San Martino. Grazie a tutti.